Musica Ci troviamo all'interno della motorizzazione civile di Milano via Cile A119 dove settimanalmente svolgiamo compiti di addestramento per gli agenti che fanno pattugliamento con le moto, con i colori e per i colleghi che svolgono servizi di prevenzione ai reati e alle norme di comportamento con motocicli civili. Il percorso che vedete qui è stato adottato in modo che significhi un percorso cittadino, quindi evitando dei veicoli che sono a movimento lento oppure in colonna. Questo perché? Perché dobbiamo dare tutte le dinamiche possibili in modo che il conducente e il passeggero abbiano il massimo della sicurezza. Il nucleo motociclisti della Polizia Locale di Milano è composto da 50 agenti e 3 ufficiali che si occupano di pattugliare tutta la città, tutto il territorio del comune di Milano. Si occupano fondamentalmente della prevenzione e della repressione di tutta l'inflazione che ho riservato a strada ed in particolar modo quelle che impattano sull'infortunistico e sulle morte stradali. Nella fattispecie è stato recentemente istituito un servizio in abiti civili per il contrasto alla specifica guida distratta che prevede l'utilizzo di tablo e cellulari che comportano in alta distrazione dalla guida. Nella fattispecie è stata costruita. Nella fattispecie è stata costruita. QUALITATE